Anche le vittorie sofferte sono quelle belle, con un campo quasi impraticabile siamo riusciti comunque a dare forza e quindi nel secondo tempo siamo riusciti a vincere la gara quasi in scioltezza, anche se ripetiamo il campo ci ha penalizzato, ha aiutato soprattutto la squadra avversaria, però con la forza e la griglia dei ragazzi non abbiamo mollato un secondo, nel secondo tempo pure in partita non ce ne sta. Oggi sono un campo impraticabile, abbiamo vinto una partita sofferta contro una delle concorrenti, era la quarta in classifica e abbiamo giocato per quello che si poteva giocare su quel campo, con l'emergenza, però abbiamo dimostrato di essere comunque forti. È stata una bella partita, è sempre forza Matera!